Un centinaio di persone hanno partecipato ieri sera all'Assemblea pubblica promossa dall'amministrazione comunale per presentare il progetto di riqualificazione di via Marconi nel tratto tra il compresso Oneger e il santuario della Madonna del Pianto. Al sindaco di Albino architetto Luca Carrara chiediamo di indicare i punti essenziali di questo progetto. È un progetto che nasce nel 2001 e che prevedeva già le due rotonde al Pianto in via Duca d'Aosta che chiaramente ha avuto un iter lungo nella trasformazione del fabbricato, quindi del centro commerciale e che era rimasto invece stoppato sulla viabilità. Noi abbiamo detto chiaro e tondo alla gente che abbiamo cercato di mettere una pezza rispetto ad alcuni problemi che erano irrisolti dal 2001. La prima questione è stata quella di scaricare i costi almeno della realizzazione delle opere a carico dell'operatore e l'altra di immaginarci una risoluzione complessiva in relazione anche alle altre proposte che sono venute avanti nel frattempo. Una alle corti di Michelangelo che comunque comporta un problema di viabilità ai piedi del pianto e l'altra ovviamente a quell'altra proposta commerciale che è sul tavolo che è un Eger Lombardini che chiaramente comporta una rivisitazione della rotonda su via Duca d'Aosta. La proposta che abbiamo gestito ieri alla gente è la proposta riepilogativa, è una proposta che ha avuto il parere favorevole da parte della provincia che è stata discussa in commissione territorio e nell'incontro di commissione è stata modificata leggermente di dettaglio e ci sembrava opportuno avere un confronto chiaro con i cittadini per verificare la loro opinione. È chiaro che il dibattito di ieri e il confronto di ieri è stato costruttivo ma anche estremamente mirato dai gruppi di cittadini residenti che si sentono toccati nel problema che però, ripeto, qualche d'un altro ha creato. Noi abbiamo cercato di risolvere per quello che era possibile, ci rendiamo conto che la gente che abita in quella zona vedrà per certi aspetti stravolta un po' la situazione, siamo però convinti di aver posto attenzione al dettaglio e quindi di aver lavorato nell'ottica di risolvere i problemi nel miglior modo possibile per quello che ci era consentito. Abbiamo comunque dato una nostra disponibilità a un ulteriore confronto con i residenti che avremo a inizio settimana prossima nel tentativo proprio di entrare nel particolare di questo progetto. Credo che l'operatore voglia realizzare l'opera il più in fretta possibile e questo è importante anche per noi, l'ho detto in termini molto chiari perché comunque quel tratto è diventato una strada comunale, non è più provinciale, è una strada che deve essere comunque riqualificata e che ci consentirà di dare un involto diverso all'ingresso su Albino.